Musica E' ora che anche in provincia di Prusino che cominciamo a rivalgare queste cose. Per tanti anni abbiamo vissuto con l'industria, avevamo una zona industriale che fa gli amici a quella di Milano che però ad oramai l'industria con la crisi eccetera eccetera è andata un po' a finire. Ora è arrivato il tempo di far arrivare del turismo da fuori provincia a Prusino. E' ora che il nostro prodotto tipico venga conosciuto e le nostre feste e soprattutto i nostri paesi che sono bellissimi. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti